Voi credete che facciamo un break? In realtà non lo so, c'è un break. Allora, siamo sempre in diretta dal parco delle acque minerali di Imola. Qui di fianco a me c'è Anna Lisa, che è un ghiacciolo, una specie di baccalà. Un saluto in diretta di Piazza. Abbiamo un saluto in diretta di Piazza. Mi raccomando, la prossima volta prendiamo un palò. Questo era... Un ritrovo freschino. Questa era una... Una prova di forza. A parte la prova di forza. Era una cosa simbolica. Ma sei in diretta, scusa? C'è altro che siamo in diretta? Per banco. Io non la mollo mai la diretta. Che cosa? Chi è che vuole la cosa? Questo è il Movimento 5 Stelle che si sta... Sara Lucerino. Siamo sempre in diretta. Facciamo una festa adesso, dopo riprendiamo il lavoro. Questo è il Movimento 5 Stelle che fa una pausa. Dopo riprendiamo il lavoro, sì. Questa è la pausa del Movimento 5 Stelle. Non so che cos'è, cosa ho versato. Che cos'è questo? Una roba alcolica. No, 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 no. Non la vuoi? È rum, non la vuoi. No, un goccino. Ti scaldi un po', vince, dai. E l'ha portato, l'ha portato, Dani. Fate schifo. Ma te, è troppo forte. Beh, lei in camera non beve? No, l'ho bevuto adesso sta roba schifosa. Un po' la brucia. Allora, avete sentito il signor Boschi che ha fatto le sue dimostranze riguardo alle acque minerali. Questo è quello che resta, questo è buio, vedrete poco, è quello che resta del chiosco delle acque minerali. Una volta lì in mezzo c'era una fontana e appunto per quello si chiamava Acque Milano. No, non lo voglio. Ti ringrazio. Questa è la pausa del Movimento 5 Stelle che vi interesserà sicuramente. Aspettiamo che finiscano. Annalisa ci fa vedere il parco. Cioè il parco, questo è il chiosco, no non lo voglio, ti ringrazio. Questo è il chiosco che vi dicevo poc'anzi, che è un bellissimo. Questo parco è meraviglioso, stupendo. Solo che è abbandonato, cioè abbandonato. È poco curato, eh Annalisa? È poco vissuto. È poco vissuto, è poco curato. Cioè ci sono delle cose bellissime. Adesso un giorno farò una ripresa di urna, perché questa è notturna, ma ha il suo fascino anche quella notturna. Ragazzi abbiamo la gente ancora in linea che vi sta guardando. Se vogliamo continuare la riunione così la concludiamo anche. Abbiamo un altro ordine del giorno, poi dopo abbiamo finito. In linea non te lo so dire, perché adesso non ho la maniera di dirti. Ma c'è qui? Certo, non scherzo. Adesso stanno divertendo che vi vedono. Adesso ve lo posso. Ma non riesco a vedere quanto sono in linea, ma lo vedo dopo. Lo posso vedere solo dopo nella timeline. Allora, cosa facciamo? Ci rimettiamo? Ciao Piazza. Ciao Bello. È stato bello. È stato bello, sì. Non è cilindro. Ma chi è che lo sa? Lo so io, ma lo sanno anche i consiglieri. Consiglieri, consiglieri. Comunque è molto semplice. Ragazzi, se vi venite qui un attimino. Finite di bere qua, ragazzi. Anche se avete il bicchiere in mano. No, si fa incassare, mi fanno. Perché si guadagna 46 mila euro per metri. Ma va a fare pure tutta la via. Non solo il streaming, vero. Non puoi cancellare per piacere. Perché è uno che fa l'imprenditore. E poi devi avere l'agibilità dei visi del cuoco. E poi devi avere il castro. Non devi spegnere però. No, no, no. E sei in live. Sei in live. Allora, ragazzi. Concludiamo questa. Va bene, chiudiamo questa diretta. La chiudiamo qua. Perché vedo che i ragazzi si sono già lasciati andare. Vi saluto e ci vediamo al prossimo evento che sarà il 31 di dicembre con Santa Chiara. Scusate, di 9 di ottobre con Santa Chiara. Che ho messo il titolo del suo libro? È venerdì. Palloni, Carogne. È perfetto. Ciao a tutti.